Ciao a tutti ragazzi, è arrivato il momento di farvi vedere qual era il regalo che mi ero fatto per Natale molti di voi hanno provato ad indovinare e alcuni devo dire ci sono andati molto vicino in particolare coloro che hanno detto Skyrim vi spiego perché perché io in realtà ero orientato a prendere Skyrim e ero indeciso tra Skyrim e quest'altro gioco quindi non è Skyrim e non ho scelto Skyrim semplicemente perché ho letto in questi giorni di vari bug, di problemi soprattutto con i salvataggi che diventano troppo grandi e quindi fanno laggare il gioco addirittura crashare le console quindi credo che aspetterò tempi migliori per prendere Skyrim così magari nel frattempo esce un aggiornamento e cara anche un po' il prezzo quindi ho optato per un altro gioco ora se non mi è sfuggito nulla quindi se non ho perso qualche commento mi sembra che nessuno di voi abbia indovinato poi oh se qualcuno ha indovinato e io non l'ho visto insultatevi pure quindi me lo fate notare e mi insultate ma a quanto pare nessuno di voi ha detto Rayman Origins esatto ho preso l'edizione per collezionisti la Collector's Edition insomma quello che è e per PS3 andiamo a fare l'unboxing eccoci qua pronti a fare l'unboxing di Rayman come potete vedere non c'è più il cello fan attorno perché sono stato talmente fortunato che mentre facevo l'unboxing è andata via la corrente è andata via la corrente e quindi non ho potuto non ho potuto salvare il video che è andato perduto e quindi devo rifarlo senza cello fan quindi andiamo direttamente a fare l'unboxing questa è la copertina guardate guardate che bella tutta bella colorata mi piace un sacco e e questo invece è il retro con i soldi di screenshot sotto le indicazioni le caratteristiche del gioco non c'è il multiplayer online stranamente ma a me non è che frega molto questo deve essere divertente soprattutto per giocare con gli amici questo ha il bordo e questa quindi è la Collector's andiamo ad aprire allora quando apriamo dovrebbe uscire così vedete dovrebbe diventare così la scatola sinceramente l'idea era anche carina però non è che viene un grand game a me non piace molto credo che la terrò chiusa la faccio vedere meglio aspettate vedete qui c'è Raymond non è dovrebbe essere tridimensionale vedete com'è dovrebbe rimanere così non è proprio il massimo diciamo a me non piace molto e poi qui dentro abbiamo i contenuti si ok abbiamo i contenuti che sono la colonna sonora del gioco colonna sonora che se dovesse essere in linea con con le altre colonne sonore dei precedenti Raymond dovrebbe essere spettacolare perché io i Raymond li ho giocati tutti anche quelli per playstation 1 soprattutto quelli anzi che erano i più belli e ecco qui il disco e avevano delle colonne sonore favolose e io spero che questo non sia da meno ma credo credo che sia bella come gli altri come colonna sonora poi poi la sentirò e quindi colonna sonora poi 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 c'è l'artbook oh vedete vediamo com'è oh guardate guardate che belle illustrazioni sono coloratissime questi sono i buoni poi di qua abbiamo invece i cattivi guardate guardate quanto sono colorate quest'artbook mi piace tantissimo forse uno dei migliori che ho insieme a quello di Bioshock 2 che era enorme questo invece mi piace per le illustrazioni che sono veramente magnifiche vedete proprio un bell'artbook qua qui ci sono tante pagine non c'è scritto niente non è uno di quelli che magari dà informazioni in più sui personaggi o cose del genere però è semplicemente bellissimo da guardare guardate che bei disegni mi piace molto ecco qui ci sono ancora un sacco di pagine me le faccio vedere tutte comunque è tutto così molto colorato e molto bello devo dire mi piace mi piace il startbook e poi infine abbiamo la parte più importante che è il gioco anche questo in in versione standard diciamo non in versione limitata devo dire che sinceramente non mi dispiace tantissimo perché mi piaceva particolarmente questa copertina colorata insomma mi piace mi piace con tutti questi colori quindi non mi dispiace più di tanto che non ci sia una steelbox o cose del genere beh il retro che è uguale a quello della confezione della Collectors andiamo ad aprire e troviamo ovviamente il disco di gioco e di qua c'è invece il manuale manuale che finalmente è degno di questo nome vedete spiega bene i personaggi insomma tutte le cose del gioco una mentina di pagine devo dire finalmente un manuale per un gioco uscito a novembre 2011 non è cosa scontata anzi anzi è uno dei pochi credo in realtà ormai tanto squilla il telefono e quindi bene bene brava Ubisoft un gioco vecchio a scuola Ryman anche col manuale e quindi ragazzi ecco qua è finito questo era il contenuto più o meno bene ecco qui una panoramica della Collectors Edition di Ryman Origins questa la faccio vedere anche così perché in effetti è bruttina così questa sarebbe la copertina ok e quindi questa è la Collectors prima di chiudere voglio farvi vedere un altro regalo di Natale il più bello che ho ricevuto me l'ha fatto la mia ragazza ed è Uncharted il quarto labirinto il romanzo della storia di Uncharted in realtà non è non è la storia dei giochi è un nuovo capitolo diciamo una storia diversa che che non vedo l'ora di leggere lo comincerò appena avrò tempo veramente bello lo volevo fortemente questo libro se me l'avessero regalato l'avrei l'avrei comprato il più presto possibile e quindi poi magari quando l'avrò letto vi dirò vi dirò anche com'è stato ragazzi io vi saluto vi ringrazio per avervi seguito vi do appuntamento al prossimo video che penso ormai sia quello il primo video del 2012 quello in cui parlerò dell'anno che ci aspetta e quindi rimanete sintonizzati sul mio canale e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti